E' bello a tutti ragazzi, oggi siamo qui come sempre, la domenica, siamo con il nostro Fakufak domenica, non mi ricordo il numero, penso sia il quarto, e niente, vi dico subito di lasciare mi piace e qui sotto nei commenti, come sempre, hashtag Fakufak, è la domanda che vorreste farmi qui sotto nei commenti. Quindi, passiamo subito con la prima domanda. Allora, la prima domanda ce la fa AnarchiTM, Fakufak, il Fakco se l'è mangiato per colazione perché è domenica, allora la mattina si deve mangiare qualcosa di buono, andiamoci va. Se fossi una sedia, chi vorreste che ti si sedesse sopra? Questa è una domanda che hanno fatto abbastanza tanti youtuber, proprio famosi ovviamente, di me. Sinceramente, perché dovrei farmi sedermi sopra da qualcuno? Mi farebbe tanto del male, sono una sedia e non voglio che qualcuno ci si sieda sopra, di me. Quindi penso, o un bel culo, o nessuno. Questa è la seconda domanda di oggi, ce la fa PierStefano Ugolini, hashtag Fakufak. Qual è lo youtuber che preferisci che fa video su Clash? Bella Fak, forza mia. Qual è lo youtuber che preferisco che fa video di Clash? Non ne seguo tanti perché ad alcuni non mi piace lo stile che fanno, ma principalmente seguo Exector, che mi piacciono tanto i suoi video che fa di Clash, e Wanya, ovvero Black, che fa anche lui video divertenti. Per il resto basta, altri non ne guardo tanti perché sono cose monotone, cose che non mi interessano o cose che non mi divertono, quindi preferisco non seguirli neanche perché non mi piace il loro stile. E niente, quindi sono questi due principalmente che mi piacciono, proprio che seguo ogni video di Clash. Passiamo con l'altra domanda che ce la fa Lorenzo Nicky Foros, hashtag Fakufak. Con cosa registro? Allora, il Fakufak lo registro col cellulare che sto usando adesso, che è un Samsung Galaxy S4, invece per registrare Clash of Clans, sul tablet uso questa applicazione qua, che si chiama Recorder, non so se si vede però si chiama Recorder, intanto mettiamoci di nuovo a fuoco perché... non si sa mai. Passiamo con l'altra domanda, ce la fa sempre il nostro Alex Channel, hashtag Fakufak, mai pensato di fare un secondo canale. Un secondo canale quando si ha 690 iscritti non ha molto senso, quindi non ci sto neanche a pensare perché è veramente inutile avere un secondo canale adesso che ne abbiamo uno con pochi iscritti, magari molto più avanti potremo fare anche un secondo canale dedicato ad altri giochi, magari se lo volete altri giochi ditemi qui nei commenti e porteremo altri giochi sempre su questo canale, poi magari più avanti quando non avremo più tempo per portare altre serie su questo canale potremmo anche aprire un altro canale, ma per ora non se ne parla proprio. Passiamo con la seconda, sì, seconda. Con l'altra domanda di oggi ce la fa Fede Manzo, hashtag Fakufak, facco che squadra tifi. Già detta questa domanda tantissime volte quindi non mi sto a dilungare su questa domanda, tifo l'Inter e basta. Passiamo con l'altra domanda, che ce la fa Gianluca Delli Paoli, hashtag Fakufak e se Clash of Clans non esistesse con lo smile che ci sta sempre, se Clash of Clans non esistesse niente, lo creerei io con altre persone e ci faremo i milioni di soldi in Italia. Quindi saremmo degli italiani con un bucio di culo tanto a creare questo gioco. però crearne uno molto uguale sarebbe molto ma molto difficile perché ci sono un botto di imitazioni di questo titolo molto molto meglio. Bene ragazzi, per questo video è tutto. C'erano queste poche domande, nessuna domanda si drogheggiando e quindi tutte domande serie oggi domenica, domande serie. Quindi qui sotto nei commenti vi ricordo hashtag Fakufak. con una domanda, magari divertente, chiedere quanti Rennalufo o quanti Rerchop. E niente, vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale che ancora non l'avete fatto, siamo quasi arrivati a 700, come vi ripeto da un video. Siamo quasi arrivati a 700, lasciate like, commentate, hashtag Fakufak la domanda che vorreste, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Bene ragazzi. Grazie.